Aspettatelo. Parlate forte, signor Talbot. Perdonatemi, ma non riusciamo ad udirvi. Sei un imbecile. Stanotta io ucciderò tutti voi! Ucciderò tutti voi! Sì, ebbene, come potete vedere, la licantropia... Mi prego, fate in modo di imparirlo! ...di ambientale che esiste da qualche parte... Uccidetevi! ...de profondi recessi del messaggio e del scampato. A lui questa sembra davvero una realtà. Il soggetto, grazie a voi, nel primo mese... ...è stato sottoposto a una sensibilizzazione... ...sia farmacologica che fisica. Ma non si cura gli eccessi del corpo. Ed ora non è un'altra cosa... ...una sua mente razionale... ...a quello che giusto sopravvento. E' un'altra cosa della gerarchia psicofisica. Quegli uomini che corrono un volando di notte... ...se il campo di libero... ...quando finito di essere l'uomo... ...sono stati a lungo tempo... ...professor Anigar! ...ed è accertato che questa particolare garantia... ...deriva uno stato magnetale... ...ed è un'eccessiva stipulazione dei sensi. ...e 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 un'eccessiva stipulazione dei sensi. Grazie a tutti.